Ciao, azione. Ci siamo incontrati qualche giorno fa al compleanno di Carlo, Carlo Fantini. Ah, Mauro, ciao. Sì, mi ricordo, dimmi. Mauro De Maio? Battimi, subbattiti, sento l'amore quando vedo te. Guardami, abbracciami, non voglio scappare dall'idea di te. Guardami, convincimi a guardare dentro di me Dove vai? Io sono qui Non andare lontano da me Ah, ti vedo nelle stelle Oi, ma? Sì, ma ho detto che mi fanno sapere. Mi fanno sapere? Dai, poi ti dico bene. Dai, ciao. Raga, raga, meno pesino, che poi i cinesi qua a fianco mi rompono. Mauro, come va con la musica? Perché muochi? Così? Bene. Dai, facci sentire quella canzone... Come si chiama? Quella delle stelle. Ma non ci stanno i cinesi? Ma sti cazzi dei cinesi, vai. Lo sai che anche a me piace cantare. Ma sì? Sì, c'avevo un gruppo al liceo, poi l'ho lasciato perdere. Certo che tu non sei uno che parla molto, eh. No, anche se sono un po' stanco. Comunque, quello è il mio portone. Ti va di salire? Ma guarda, meglio di no. Perché? Sei fidanzato. Ma che non mi va. Non mi va tanto di salire. Vaffanculo. No, anche se non mi va tanto. Sì, 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 sì.